Innanzitutto a nome del mio gruppo parlamentare vogliamo esprimere un po' di sgomento per ancora le tre scosse di oggi sempre nelle stesse zone colpite nei mesi precedenti. Presidente, al di là di tutte, di evitare di fare anche polemiche, perché anche il mio gruppo parlamentare ha continuamente lavorato su questa questione e sta cercando di proporre sempre delle soluzioni innanzitutto. Però innanzitutto ci auguriamo che il governo faccia il proprio lavoro e che innanzitutto il ministro Pinotti si attivi per inviare maggiori forze e maggiori mezzi, soprattutto in quelle zone. Se i terremoti non sono prevedibili, la neve sì. Quindi su questo ci permettiamo di dire che non si è lavorato benissimo. Intervengo per denunciare la situazione vergognosa che sta vivendo purtroppo ancora in queste ore la regione Abruzzo, dove è bastato una nevicata un po' più intensa del solito per mettere in ginocchio un'intera regione. Addirittura si parla di un blackout che ha coinvolto per la missione della stessa Enel più di 40.000 utenze, probabilmente 200.000, forse ancora di più, cittadini che da 48 ore sono senza energia, sono senza riscaldamento e sono anche senza acqua. Allora a fronte di protocolli noi vi chiediamo interventi immediati, anche perché lei ha citato la tesoreria e la ragioneria. Beh, allora le comunico ministra e le chiedo la cortesia di accelerare lo spostamento di denaro da un ministero all'altro e oltre allo stanziamento la liquidità di questi fondi che siano immediatamente utilizzati sui territori. Per quanto ci risulta ancora non è stato fatto lo sblocco dei fondi del decreto terremoto che sembrano siano ancora bloccati, chiediamo che si verifichi effettivamente come questi soldi vengono spesi perché neanche un euro deve essere spiegato, quei soldi devono essere spesi e devono essere spesi bene soprattutto perché dobbiamo dare la vicinanza in questo modo a quelle popolazioni, per favore non le lasciamo sole. Oltre alla solidarietà c'è stata nell'ultima seduta di plenaria una mozione di soluzione sul terremoto, c'erano delle richieste ben precise che la maggioranza del Parlamento europeo ha approvato, servono atti concreti perché la situazione non migliorerà e non sono alcuni cittadini che sono ancora in pessime condizioni, ma è la stragrande maggioranza della popolazione del centro Italia. In tutti i giorni abbiamo fatto una cosa meravigliosa, abbiamo aperto i cantieri di lavoro sul lavoro. Abbiamo delineato uno scenario di quello che sarà il lavoro da qui a dieci anni. Ebbene adesso il futuro ce l'abbiamo in mano, ce l'abbiamo in mano nelle nostre mani e è compito nostro della politica adesso accompagnarlo e modificarlo con l'azione politica. Ringrazio anche i politici proprio di professione, almeno in questa fase, del Movimento 5 Stelle perché sono stati di una discrezione straordinaria anche durante questo convegno. Si sono seduti al loro posto, hanno ascoltato, hanno preso appunti senza mai intervenire, senza mai... Questo veramente è una cosa straordinaria. Penso che avere per due ore Peppe Grillo in silenzio sia una cosa quasi, diciamo, taumaturgica. In Italia l'1% più ricco detiene 30 volte la ricchezza del 30% più povero. Per affrontare questa complessità servono tre aspetti importanti. La lungimiranza, la visione di insieme e un approccio metodologico. Tutti questi aspetti sono in questa ricerca dove abbiamo applicato, utilizzato il metodo Delphi con un approccio scientifico. Quindi abbiamo dei concetti di spostamento, di fare le cose, ma sempre sono mezzi per arrivare a qualche cosa che dobbiamo, secondo me, trattare e sarebbe bello sentire qualche risposta su che tipo di società vogliamo. Questo è il mio ringraziamento che faccio a De Masi e spero di vederti dopo. Vi ringrazio tutti di avermi sentito, non in chiave comico, umoristica o politica. Grazie Presidente, oggi si coniuderà l'esame della proposta di legge che andrà a disciplinare il settore della ristorazione in abitazione privata, ormai conosciuto con il termine inglese di home restaurant. Abbiamo quindi cercato come Movimento 5 Stelle di normare questo settore in espansione senza farlo diventare l'ennesimo carrozzone sprofondato dalle norme e dalla burocrazia, ma pensando anche ai ristoratori, limitando l'home restaurant ad un'attività saltuaria, differenziandolo per numeri di coperti e guadagno possibile dalla ristorazione classica. Concludo, Presidente, dicendo che in un paese come il nostro, colpito ormai da diversi anni da una forte crisi economica, ma anche relazionale, riconoscere l'home restaurant non è solo offrire una nuova opportunità reddituale complementare, ma è anche far riscoprire la voglia di stare insieme e di condividere. Per questi motivi voteremo favorevolmente il testo. In questa relazione annuale noi siamo costretti a fare un bilancio di quella che è stata l'attività normativa in tema di giustizia nell'anno trascorso e dobbiamo constatare che ancora c'è stato un vuoto di quelle che sono le esigenze attuali del paese, come richiesto in ogni occasione da parte del Movimento 5 Stelle, potenziando il cosiddetto DASPO per i corrotti e con l'introduzione della figura dell'agente sotto copertura, così come anche l'approvazione, questo attiene al Parlamento, della disciplina sul cosiddetto whistleblowing. Ecco, lei si rende conto che il reato di tortura aspetta un iter, diciamo, che è partito dal luglio del 2013, lei non si vergogna un minimo a pensare che ancora noi rischiamo di finire questa legislatura senza l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento penale italiano? Le volevo ricordare una cosa, prescrizione, la proveremo entro la pausa estiva, sa chi l'ha detto? L'ha detto lei, il 22 luglio del 2016, glielo ricordo, ma perché non chiede scuse per queste fandonie che racconta e queste promesse che non vanno mai in porto? Quando ci inventiamo le statistiche per farci belle, per far vedere che qualcosa funziona, poi però andando ad analizzare le statistiche scopriamo che è insomma una truffa semantica. C'era un servizio di qualche mese fa del Tg3 in cui si diceva che un milione e mezzo di persone avevano rinunciato a tutelare i propri diritti perché uno costava troppo, due perché i tempi erano troppo lunghi. Ora io sinceramente bearmi del fatto che un milione e mezzo di cittadini rinunciano a tutelare i propri diritti e non lo farei mai. La prima cosa che ne abbiamo chiaro da queste vostre risposte di oggi, nonché dalle parole di Minniti in questi ultimi giorni in giro per il mondo, è soltanto una, che avete un solo interesse, riattivare la vostra mangiatoia legata ai scie, ai cara e all'accoglienza che ci ha già descritto Masia Capitale e dove le vostre cooperative, quelle di sinistra come quelle di destra e mi vorrei avere qui Alfano per parlargli del cara di Mineo, avete mangiato per anni e vi hanno anche beccato con le mani nel sacco, questo è l'unico interesse che avete. Qualunque cosa sarà approvata non sarete in grado di realizzarla, per questo noi ci asterremo su tutte le proposte presentate oggi perché la strada ve l'abbiamo già tracciata due anni fa quando eravamo inesperti e oggi ne parlate anche voi senza riuscire a realizzarlo, non servono altre chiacchiere, serve solo capacità politica e voi non l'avete. Per me sarà un grande onore e anche una grande responsabilità guidare la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo nei prossimi sei mesi. Continueremo a combattere le battaglie che da due anni e mezzo a questa parte abbiamo portato a Bruxelles e a Strasburgo. Contrasteremo ogni politica basata sulla scellerata austerity dei falchi del rigore, vigileremo perché gli accordi di Parigi sul clima non restino solo sulla carta. Sosterremo le nostre piccole e medie imprese e daremo battaglia per controbilanciare lo strapotere di lobby e multinazionali che realmente decidono in Europa. Non basta la solidarietà e la vicinanza, i cittadini vogliono risposte dall'Unione e dai governi per rimettere in piedi un territorio duramente colpito. Dobbiamo proteggere i nostri cittadini e lo dobbiamo fare soprattutto noi, loro rappresentanti. In questo difficile compito, fortunatamente però, potrò contare sull'aiuto di Laura Agea. Siamo arrivati a metà legislatura e questo Parlamento, purtroppo, spesso tutela le persone e gli interessi sbagliati. Questi sei mesi ci vedranno sempre dalla stessa parte, quella dei cittadini, l'unica lobby che il Movimento 5 Stelle riconosce e tutela. Il mio gruppo parlamentare vogliamo esprimere un po' di sgomento per ancora le tre scosse di oggi, sempre nelle stesse zone colpite nei mesi precedenti. Presidente, al di là di tutte, di evitare di fare anche polemiche, perché anche il mio gruppo parlamentare ha continuamente lavorato su questa questione e sta cercando di proporre sempre delle soluzioni innanzitutto.